9 novembre 2022, 9 agosto 2023. A nove mesi dal sisma che ha sfereggiato il capo della statua della Madonna dei Cappuccini, è stato completato il lavoro di restauro dell'opera dello scultore Luigi Galli, che da oltre 60 anni è un'icona cittadina alle porte del centro storico. Un'opera portata avanti attraverso un service del Lions Club Pesaro della Rovere, che grazie anche al contributo di Renco S.P.A. si è presa carico di questo ripristino avviato a giugno e appoggiato da Comune di Pesaro e dalla stessa parrocchia dei Cappuccini. Un messaggio forte è che noi Lions, insieme al Comune, insieme alla società Renco, vogliamo lasciare a tutta la città, a tutti i pesaresi. Quindi oggi possiamo annunciare che i lavori si sono conclusi, siamo riusciti a restaurare e riportarla all'originaria bellezza e a fine agosto, stiamo pensando alla data del 24 agosto, ve lo anticipiamo, ci sarà lo svelamento di questa statua con una festa e un rinfresco dedicato anche a tutta la parrocchia. Sono molto orgoglioso che il nostro club abbia dato un contributo di sensibilità e di concretezza alla città di Pesaro. Ovviamente ringrazio anche tutti i soci del mio club che ci hanno dato questa opportunità, condiviso questo progetto iniziato da Chiara. A curare il restauro Michele Pagani di Etra Restauri che su indicazione dei frati Cappuccini ha ripristinato la statua alla sua versione originale, ovvero con la testa della Madonna libera dall'aureola ora conservata in parrocchia. Un intervento su un'opera privata applaudito dal Comune di Pesaro. Avere avuto vicino a me delle persone così disponibili come la Renco, come i Lions della Rovere è stato veramente molto molto importante. Il Comune di Pesaro si avvale anche della sensibilità dei cittadini, questa è la cosa più importante e qui ha funzionato in maniera egregia. Noi oggi abbiamo e restituiremo alla città la statua della Madonna dei Cappuccini che è un simbolo, un simbolo religioso ma anche di affetto per tutti i pesaresi e quindi lo riteniamo un arrivo molto importante.